Buongiorno, 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 calcoliamo che il discorso fra di noi di un argomento e se di come vede la forma di un arbol, non l'argomento, un luttacca e te slidris e al basso un tocco al tronco e dopo è certamente che si piatta, per sfrasti, non arriva mai sulla specie, non arriva mai a una conclusione. Altri di loro invece partono da specie e allora non arrivi a capire di ciò che fai bene e tu tuciris e ti sbagli il cervello e altri di loro si mettono a fare là che tu capisci che anche ora non sanno di precisi che hanno di dire e facendo lunghi respiri spietanti che il figlio dal pensiero si sviluppa la chiave derivata di altro. Tu vorresti scegliere magari e tu senti che tu perdisci un tempo a questa orgoglia. Allora, imparando a parlare di loro, ci si ha di fare, si ha di viaggiare la bocca e quanto si acclarta la chiave che si ha di dire e quanto si viaggiare su un argomento, si ha di capire che l'altro, che l'argomento non lo conosce per noi è come una lavagna netta e tutta di scrivi. Buone giornate e buone vite.